Dalle luminarie da festa patronale ai tavoli per gli incontri B2B torna alla BTM l'appuntamento internazionale del turismo che per la sua decima edizione si tiene nei padiglioni della Fiera del Levante in tandem con By Puglia l'iniziativa organizzata alla Regione Puglia con Puglia Promozione per favorire l'incontro tra aziende del territorio, agenzie e tour operator. Il tema dell'anno della BTM, fiera comunque dedicata alla formazione degli operatori, e il turismo adattivo in grado di rispondere anche ai cambiamenti crescenti causati da fattori esterni. Il turismo adattivo è un trend fortemente in crescita, almeno nel mondo del turismo, e nasce dall'osservazione di alcuni fenomeni globali che ci stanno interessando. Ovviamente il cambiamento climatico è in prima fila con anche la rivoluzione tecnologica e poi con la globalizzazione e tutte le varie vicissitudini a livello di pandemia e situazioni geopolitiche particolari. La tre giorni servirà anche per fare il punto sul settore turistico con focus dedicati alla crescita del comparto e dell'infrastruttura regionale a disposizione di tutti quanti gli operatori. Questa tre giorni sarà molto improntata sui contenuti, dei vari panel che si seguiranno e che ci daranno la possibilità anche di arricchire la strategia regionale in termini di politiche del turismo, ma anche con un occhio attento a quello che sta succedendo sul mercato.